Il dibattito di grande attualità sulle politiche di genere arriva anche ad Arezzo. A suscitare discussione sono quattro progetti finanziati con 40.000 euro selezionati dalla provincia di Arezzo e riguardanti l'educazione delle giovani generazioni sulle tematiche della cittadinanza di genere. A manifestare le proprie perplessità nei confronti di questa azione sono alcune associazioni del territorio, tra le quali il forum delle associazioni familiari. Perché ci siamo mossi e cos'è che non ci sembra accettabile di questi quattro progetti? Dunque noi innanzitutto non è stato facile trovare i progetti e capire di che cosa trattano i progetti stessi perché è come se ci fosse una difficoltà a essere trasparenti su questo fronte da parte di chi li propone. Però comunque poi guardando quelli che magari sono più completi, quelli di cui si riesce a capire di più abbiamo scoperto che sotto la veste di lotta alla discriminazione, di lotta contro la violenza e soprattutto a favore della parità, i progetti che si propongono per favorire la parità tra i sessi ciò che veicolano è ben altro. Relativizzano fortemente il concetto di famiglia e quello che loro chiamano il concetto della famiglia tradizionale, quello che definiscono lo stereotipo e contestualmente a questo cercano di far entrare nelle scuole la cultura ideologica del gender che è una cultura, oramai se ne parla da tanto, penso che tanti di noi sanno di che cosa si parla ed è una cultura che se proposta fin dalla più tenera età ai bambini, dalla scuola dell'infanzia in poi va a minare le fondamenta dell'identità nella sua completezza della persona perché non si può parlare di identità sessuale come se fosse qualcosa di avulso dal resto della persona e soprattutto non si può parlare di dato biologico della persona, di corpo della persona come di qualcosa di indipendente da quello che accade nel nostro cervello che invece è quello che propone l'ideologia del gender e noi nasciamo con determinati dati biologici che possono essere l'apparato genitale maschile o quello femminile ma quello che decidiamo di essere poi nel corso della vita appartiene esclusivamente alla nostra mente al nostro cervello e agli influssi che può avere su di noi la cultura e il contesto sociale nel quale viviamo dire questo ai bambini, dire questo ai ragazzi nella fase più delicata che è per esempio quella non soltanto la primissima infanzia ovviamente e anche durante le scuole elementari ma nella scuole medie, nella fase della pubertà eccetera è fortemente destabilizzante e non riteniamo essere il compito precipuo della scuola penso che per arrivare a toccare queste tematiche la scuola debba avere l'oculatezza e quella delicatezza anche necessaria di consultare i genitori, confrontarsi con i genitori e proporre in primis ai genitori questi progetti nella loro interezza chiedendone eventualmente il consenso, non si può fare l'esatto contrario prima mandarli nelle scuole, proporli, farli vivere ai ragazzi e poi eventualmente aspettare la reazione dei genitori, questo non ci sembra corretto e poi anche se può fare l'esatto